Qui è invivibile, c'è gente sia cattiva ma anche un uomo l'est che va lavorando. Mettere la musica a palla alle due o tre di notte immagino che chi lavora alle 5 del mattino che si alza è difficoltoso. Sono disperati i residenti di via Rimini a Montesilvano, una zona classificabile come quella del ferro di cavallo di Pescara. Come testimoniano le immagini, all'interno degli alloggi adere è possibile trovare allacci abusivi alle utenze e sporcizia. Inoltre nel quartiere ci si può imbattere con cani anche di grossa taglia senza guinzaglio che terrorizzano i passanti. Mentre in passato non sono mancati nemmeno atti di violenza. Purtroppo con questa gente non ci si può parlare perché io ho parlato varie volte per i cani perché comunque faccio parte dell'animalista. Ho cercato di parlare ma invece sono stato mandato solo all'ospedale. A denunciare la situazione Domenico Pettinari, il consigliere regionale Pentastellato chiede l'intervento di Regione Abruzzo e del Comune di Montesilvano. Non c'è più tempo da perdere. Andremo adesso a verificare questi alloggi abusivi, andremo a verificare degli allacci abusivi alle utenze come rubano la corrente. Poi i cittadini onesti sono anche costretti a pagare le utenze per loro e per gli altri. Quindi l'appello che faccio forte al sindaco di Montesilvano, al presidente di Regione Abruzzo perché qui ci serve un servizio di videosorveglianza che funzioni perché vedremo anche telecamere completamente rotte e sfasciate. Serve sicuramente un'unità fissa di Polizia H24 che possa garantire la sicurezza dei posti. E poi una grande opera di bonifica, di pulizia perché veramente c'è di tutto il più abbiato.